10 spettacoli dei quali 8 in abbonamento, i primi due al Pietro Aretino, gli altri al Teatro Mecenate. È la stagione teatrale 2011-2012 del Comune di Arezzo, una stagione di qualità, che anticipa di fatto le prossime quando il Petrarca tornerà disponibile. Il teatro non è un edificio, il teatro si fa in piazza, i greci lo facevano nelle arene, i romani lo facevano nell'anfiteatro, come nella nostra città abbiamo una bellissima testimonianza, e il carro di Tespi nel Medioevo si faceva dappertutto, si fa in taverna il teatro, e si fa dappertutto non è importante, è importante la qualità, la comunicazione e la partecipazione. Un coinvolgimento diretto della Fondazione Toscana Spettacolo quest'anno? Sì, grazie alla fiducia che il Comune di Arezzo ha avuto nei nostri confronti. Abbiamo fatto le corsi, abbiamo fatto l'impossibile perché siamo partiti tardi e tuttavia noi condividiamo il progetto, investire sul pubblico prima ancora che riapra il Teatro Petrarca. Assolutamente sì, con dieci spettacoli di livello nazionale, dieci e più grandi interpreti del nostro panorama, due spettacoli qui al Teatro Pietro Lettino e otto al Nascituro Teatro Mecenate. Questa è la composizione di quest'anno che va da Silvio Orlando a Pamela Villoresi, passando attraverso Sonia Bergamasco, Remo Girone e chi più rapi ne metta. Bene, fra giorni inizieremo a pubblicizzare tutta l'attività per gli abbonamenti, Grazie.